C'è preoccupazione insieme all'amministrazione comunale per le notizie che riguardano i presunti fondi per la Casa dello Studante che non ci sono più? Sì, si tratta di un'opera significativa, importantissima per il futuro della nostra città. Ricordiamo bene come chi oggi amministra, a cominciare dal sindaco Gian Guido Alberto, nello scorso mandato con un grandissimo senso di responsabilità rimassero in aula in un momento di profonda difficoltà e l'aggiunta Brucchi proprio per votare questo progetto. Quindi oggi se per un problema tecnico nello storno dei fondi si dovesse perdere la possibilità di un'opera così importante sarebbe in qualche modo una piccola tragedia per il nostro territorio che già fa difficoltà a ripartire. Ma avete indagato un po' su questa questione? Ci sono o non ci sono questi fondi? Sono stati stanziati, il problema è che mancava un capitolo di bilancio da aprire appositamente, cosa che è stata fatta, è in colpevolissimo ritardo, adesso manca il trasferimento appunto nell'apposito capitolo di bilancio. Ho letto con attenzione le dichiarazioni dell'onorevole Berardini, sono sicuro che con l'attività dei deputati al nostro territorio eletti a prescindere da quale forza politica sapranno lavorare in maniera sinergica per far sì che questi soldi arrivino per un'opera così importante.